Amici sportivi di Italia 1, ben ritrovati, Giacomo Cicciomenti con voi, Chris Recalcati Giacomo sorpresa, guardate chi va sul ring MVP! Un'altra delle grandi sorprese di SmackDown in questo periodo Ricordiamo, abbiamo visto Chris Benoit, il ritorno di Chris Benoit Tra poco, Kane E settimana prossima, attenzione perché settimana prossima andiamo in onda il sabato Sabato mattina Sabato mattina, tutti quanti A scuola come si fa? E si porta le televisioni Si porta le televisioni, ma ormai guarda con questi computerini, telefonini No, non puoi stigare queste cose Si può vedere tutto, poi le maestre lasciano guardare Eh, cammini, cammini, cammini Comunque sì, a settimana prossima di sabato, attenzione Solo per settimana prossima di sabato perché domenica c'è Valentino Esatto Il ritorno di Big Show E il ritorno ancora di John Cena Ma ora gustiamoci MVP Ma chi è Chris? Sembra un Power Rangers Esatto Power Rangers MVP Vabbè dai Power Rangers, vediamo Che fa? Parla anche questo Ma che parli? Ma dai non parlare, dai Sei nel mondo del wrestling Sei pronto a pigliare le mazzate? Attenzione Teodor Long è pronti via Pipino Grande, forse uno dei general manager più belli Più grande Più simpatico al mondo Alle giacche leggermente lunghe Ma è bellissimo, bravissimo Grande Pipino Guarda tutti i quali passati a SmackDown Da Court Angle A Paul Heyman Maggeggiatore E quindi anche Stefanie La fine di Macmill Attenzione, guarda Camminata alla Jefferson e vai Montel Montevius Nome per esteso Nome per esteso Nome per esteso MVP MVP Non lo chiediamo MVP So che sei pronta a difendere So che sei pronta a combattere Quindi lui ha portato Diciamo un atleta Eh? Abbastanza forte Perché ha visto che lui è molto bravo Per combattere contro MVP Faccia del bullo Sì, vedi, vedi Si atteggia Si atteggia Vi ricordate cosa abbiamo detto La settimana scorsa? Un ritorno era Chris Benoit E l'altro E l'altro Eccolo qua Giaco Sto già ridendo Signori Nato a Madrid Ex professore di matematica E questo è tutto da dire Giaco Bravo Adesso ti fa due equazioni Guarda Eh, si infaccia Però te le fa le equazioni Signori Kane Quanto è grosso Il fratello di Undertaker Eh, caro Giacomo 213 cm per 140 kg Tutto muscoli E il caro MVP Lo vedo male Attenzione Il suo gesto Guarda qua Esplodono i paletti Di sostegno ring Vai Vai Kane MVP 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 E' una prima Ok, no, aspetta un attimo perché devo soffrire il naso, devo soffrire il naso, torno subito, vado soffrire il naso e torno, speno, già, e allora Kane dice vengo anch'io, a questo punto accendo anch'io, e vai, è partito il match, Kane contro MVP, ancora MVP, le finite le pressioni, Power Ranger, le finite le pressioni, no, adesso te le fa fare Kane le pressioni, MVP, ti preoccupare, la narice te la fa fare le pressioni, Guarda Kane, la Big Red Machine, così viene chiamato Kane, attenzione, ex campione WWE, ricordiamolo, importantissimo Di nuovo a SmackDown, Kane, ricordiamo il presidente, ricordiamo il ritorno di Kane, attenzione, settimana prossima, sabato mattina, Big Show e John Cena Alla grandissima il ritorno, 223 centimetri d'uomo ragazzi, imperdibile a SmackDown, ma guarda MVP, sta misurando, oh che bellezza, il perimetro Sì, lui fa l'architetto, la finita, misura tutto il perimetro del ring, esatto, poi i dati della misurazione li rimangono attaccati sulla fronte E no, per non dimenticare, per non dimenticare così, ok, Kane su MVP, vieni qua, bello, vieni, bello, vieni, vieni, bam Allora gli ha detto, gli scalini li rimangono così Parcolla, ancora, MVP con Kane, Manona, ma dove vai, dito da occhio Correttamente, attenzione, cerca di guadagnare, direttamente un'uscita Dove vai? MVP, Power Ranger, Kane, scopito lo sguardo di Kane, attenzione, lo sguardo di Kane e balla a prendere Se questo lo piglia in questo momento